Al Salone dei Vini Naturali di Fornovo dello scorso 5-6 novembre, tra i 170 espositori, ben 24 erano della nostra regione pari al 14%, di cui 5 delle nostre valli, dai Trarì di Beduzzo a Crucizza di Pastorello, Donati di Barbiano, al Pradaroli della Valceno e Vigna Cugnial di Traversetolo, con il motto, una satira di quinto razzo flacco, nulla la vita concede agli uomini senza un grande impegno. Il vigneto di Gian Maria Cugnial, a Fornovo da almeno 6-7 anni, ha proposto 9 vini, Malvasie, Pinot, Sauvignon, Sardonnay, Barbera, Cabernet e un biologico di Uve Sira. L'impegno è molto grande, però altrettanto è la soddisfazione. Quindi siamo impegnati tutto il giorno perché poi, oltre alla parte vitivinicola, abbiamo la parte più prettamente agricola, produciamo olive per olio, frutti antichi, grani antichi, farro monococco. Quindi siamo impegnati 365 giorni all'anno. Sono già molti anni che partecipiamo a Fornovo. Il vino di punta che abbiamo sono i due vini più parmigiani, in particolare la Malvasia, che noi facciamo spumante brut, quindi secca, che è il vino del prosciutto crudo di Salumi a Parma. Tra l'altro in questa Malvasia c'è anche della Malvasia antica, non solo il clone dei Vivai Rauscedo. Stiamo sviluppando molto questo tipo di Malvasia, stiamo sovrinestando la Malvasia che avevamo messo giù prima. Come rossi abbiamo invece la Barbera che facciamo rigorosamente ferma. Aderiamo in pieno al protocollo e crediamo al non uso di tutti i prodotti che vengono utilizzati anche nella parte di cantina, quindi di denologia. Non è che aderiamo a qualche cosa, a un nuovo gruppo. In realtà sono le regole che ci sono sempre state. Questa volta si sono messe per iscritto, si è risposto, così è chiaro per tutti quelle che sono le regole.